Ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars Ragazzi oggi andremo a faccio delle partite Allora prima di tutto abbiamo tre casse enormi Come vedete c'è la prima, c'è la seconda Quindi ragazzi completeremo oggi infatti questa missione giornaliera Di vincere tre partiti su supervivenza solo E quella di rosa che vince tre volte Ovviamente farò le due missioni insieme E poi abbiamo un'altra cassa enorme Perché ragazzi ovviamente voi sapete che c'è una terza cassa enorme Perché avete letto sulla copertina e sul titolo Perché ragazzi qui c'è il terzo Che noi lo sciopperemo con questi qua Con i punti stellari e io ragazzi spero di farcela Andiamo a farci un po' di partite perché ragazzi Non mi va di fare un chest opening Lo so che è molto pazzesco ma non mi va di fare un chest opening di questo genere Spero ragazzi di avere un buon buon brawler Non voglio un gadget Non voglio niente Voglio ragazzi finalmente un brawler nuovo Un brawler come energetico o altro tipo Perché ragazzi uno leggendario Uno leggendario che finalmente io lo posso avere Perché ragazzi da un po' di tempo che io non trovo brawler Molto molto difficili No come per esempio ancora Iris Io ragazzi non lo vorrei avere Cioè in realtà non lo vorrei avere Cosicché avessi più possibilità di avere un leggendario che altro Allora come vedete ragazzi lì c'è Nenceti che sta cercando di uccidere Cioè se lo facessi è un casino perché qui Cioè non so l'erba si potrebbe crescere sull'erba no Allora come vedete ragazzi ha un po' di vita ma Non lo uccido Mi uccido prima lui quindi Siamo ancora in dieci ma com'è possibile Sono tutti bravi oggi A meno che non ce la fanno a scovarli Perché questa mappa Ha un sacco di cespuglie ragazzi Ecco ora ecco stanno morendo piano piano ma Ecco scherzo scherzavo ragazzi Stanno morendo un po' in tanti ora Tre sono morti in un secondo quindi sì Stanno morendo un po' in tanti ma vabbè Come vedete ragazzi c'è lui Non dobbiamo farci vedere perché se no ci ammazzano Ci ammazzano cioè in un modo pazzesco ci ammazzano Allora No Ok ci andiamo a fare l'ultima partita Sperando di vincerla perché ragazzi L'ultima partita e poi andiamo ad aprire Le ceste Perché io ragazzi le ceste le voglio aprire Allora andiamo un po' a vedere come va Sperando di essere Quarti Ragazzi messo i quarti Ecco l'ho fatto In realtà andiamo di qua Attenzione quel Mamma mia raga No raga attenzione quel mister p che si sta cercando di prendere Se si avvicinasse un pochino di più io lo ammazzerei ma Non mi viene vicino Vediamo se sta sotto Non è più sotto Se n'è andato Se n'è andato quindi va bene Io resterei qui perché ragazzi Qui è molto molto utile Perché non ce la fanno a toccarci Perché è molto difficile Che ci tocchi in qua Attenzione non mi saprei che l'ho trovato E Mortacci Ragazzi No per me lo sa che io sono qui Non so il perché ma lui per me sta un po' barando E sapete come C'è la possibilità di scoprire dov'è il nostro nemico E sapete come Facendo in modo che il nostro amico Allora Lui se ci visita ci può anche aiutare Non è detto che Lo so C'è un po' di La cosa del ritardo di 5 O di 4 secondi Attenzione quarto Attenzione Io in realtà andrei pure Cioè Così apro subito le casse Andiamo ad aprire le casse Così almeno Vai Guarda se Se combattono Non so E ora Stanno Eh vabbè ma ho capito Guardate quante ne ha Ce ne aveva un sacco Ne aveva 13 Che faccia C'era Un magnifico Come ne battevo Ragazzi abbiamo avuto 200 di pesanti La Mamma mia Ora ne abbiamo 342 Ma ora hanno Un po' alzato Ragazzi Ci andiamo ad aprire queste casse Queste mega casse Sì sono mega casse Però Perché io ragazzi Sono molto molto Mamma mia Sta mega casse La voglio subito aprire Ragazzi Andiamo ad aprire queste mega casse E anche quella Cassa enorme Dai Allora ragazzi C'è anche un problema Su pesce C'è una manutenzione Perché se no io oggi L'avrei portato Veramente Senso problemi Oggi l'avrei portato Oggi c'è la sta manutenzione Che è proprio Oggi Io Credo che era il 6 Ma a quanto pare Il 6 agosto Ma a quanto pare Era oggi E niente Poi vedo se È finita E niente Allora Vediamo un po' la prossima Mamma mia 100 Punti di energia Che sono molto utili Allora Ci andiamo ad Sbloccare Questa cassa enorme Che vediamo E vediamo un po' Quello che ci troviamo Niente Andiamo ad aprire questa O quelle E io in realtà Aprirei questa No 6 No 6 5 Non sai In realtà Aprirei questa Ma non so perché Voglio aprire quella Dai Apriamo questa No Anche questa Ma veramente No È un scherzo Dai No No raga Questo ne deve contenere Almeno Veramente Dai vediamo No raga Non è ingiusto C'è veramente No raga È ingiusto Ragazzi E queste cassa Io le odio C'è veramente Ma che è Quanti ne abbiamo I soldi Mamma mia Ne abbiamo Accumulato Veramente tanta Allora Scegli Rega Può essere Mandato Di livello 9 Così La prossima Mamma mia Anche Stecca E così Anche altri Brawler Però io Non so perché Raga Io gli mando Di livello Stecca Perché io Lo adoro Veramente Ma l'ho bisogno Molto molto più forte Quindi ragazzi Stecca Di livello Vediamo un po' Quindi ragazzi La prossima È La vita stellare Cioè Ora lui deve Cercare la vita stellare Perché se no Qui è un casino Allora Potremmo anche Migliorare Per esempio Bull Dynamite Ehm Mi ma L'ho uso Da un sacco di tempo E quindi niente Ragazzi Questo è tutto Questo video è tutto No Ci vediamo al prossimo video Sperando che Ci siano altre novità Su Brawl E niente ragazzi Questo video Finisce qui Molto corto Ma ovviamente Non potrò fare altro E niente Che vi posso dire Attenzione Facciamo una cosa Andiamo sul rago di trofei Di nuova 13.081 Ehm Con Stecca Con Stecca Sperando Sperando di farcela Sperando di farcela Vediamo un po' Se ce la facciamo Perché io voglio Farcela No Oh no No Attenzione No 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 Non c'è Questa cosa Le odio Cioè Perché 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 Ti fermano E Per sbaglio Le prendono Guardate Quelle Mamma Dai Vabbè C'è qualcuno C'è qualcuno che ci sta guardando Forse è quello che ha perso Quindi il 10 Ma Si stava guardando Ma Non so Tra un po' Se ne è un braviglia Forse E Allora Stiamo attenti Perché Siamo già a 6 Attenzione Ma io sta cosa L'ho odio L'ho detto Perché È così Non ho ancora Beccato nessuno E non è giusto Devo ricaricare La super In qualsiasi modo Ok Siamo in 4 Ma Non ho ancora fatto niente Io vabbè Attenzione Potete ricaricarmelo Con No raga Ma è troppo veloce E non solo Facciamo un sacco di danni Cioè Ragazzi Siamo a Rego di trofei 83 Ragazzi Io dico Che questo video Può finire qui No Ci vediamo al prossimo video E niente Ciao ciao Con Con il pollice in su Di stecca Raga È veramente Una cosa bella Quindi ragazzi Niente Ciao ciao